ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video a tema cookie run kingdom sono usciti non uno ma ben due biscotti nuovi wild berry cookie e clotted cream cookie uno epico e uno super epico un nuovo tipo di rarità dei biscotti la prima volta che ne esce uno io ho tenuto da parte ovviamente un po di pulline per entrambi quindi speriamo di portare a casa sicuramente wild berry se per caso trovassi anche l'altro sarei molto contenta però staremo a vedere ad ogni modo vi auguro buona visione e ci vediamo in un prossimo video allora tiriamo otto singole vediamo singola numero uno princess ok singola numero due milk cookie ok non è maxato quando vedo biscotti non maxati sono contenta singola numero 3 raro arrot carrot ci sta poi sono ci sono le le mai le mie le leggi che servono a me quindi top poi singola numero 4 ginger brave questo scam singola numero 5 o black racing che portiamo su precisamente questa carina singola numero 6 coostard singola numero 7 ok e poi singola numero 8 epico 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 ah e cosa raspberry princess scusate lapsus freudiano ora andiamo otto singole poi sei molti e vediamo cosa esce la prima singola princess seconda singola wizard wizard terza singola ninja ninja quarta frammenti di cubio ok davanti angel muscol muscol o tutti comuni e stiamo facendo giro di tutti comuni incredibile raro stavo pensando ci fosse un attimo l'epico princess ok e poi pancake pancake bene prima multi nel banner di wild berry cookie epico epico avevo un biscotto epico abbiamo un biscotto epico andiamo avanti vediamo angel 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 carrot carrot ginger brave epico epico organic beg dai si si subito prima multi for the library kingdom prima multi portato a casa top bene a posto a posto ok sono contenta già fatto per quanto riguarda questo banner in realtà doppio epico ma c'era doppio epico ma si madami altri frammenti di herb no vabbè no vabbè e andiamo con la seconda multi nel banner di wild berry cookie epico di nuovo epico ok di nuovo epico ninja ecco l'epico subito arrivato tirato dietro quest'epico dai e dai subito subito c1 bene vediamo se c'è doppio epico anche qui forse no però forse mi stiamo a chiedere tanto doppio torino in una multi non sarebbe male non sarebbe male red velvet ci piace via ok no stavo per dire doppio epico di nuovo mi stavo emozionando mi stavo veramente emozionando giuro no vabbè c'è davvero no non ci credo ma com'è possibile ok multi numero 3 ok raro vorrei anche vedere vediamo se c'è qualche frammentino epico però vorremmo anche vedere ok questa magari è proprio shaft shaft ma ci credo ci credo perché dopo quello che è appena successo alchemist ok questa è proprio shaft che più shaft che più shaft non si può siamo carichi multi numero 4 può esserci di tutto non mi spoiler rimaniamo col dubbio così non sappiamo se c'è l'epico un frammento di wild berry un frammento di sparkling non mi sono potata spoderare niente perché può esserci come non esserci in questa multi raro mi stavo emozionando raro niente multi numero 5 epico multi numero 5 epico ninja onion 2 di vampire che ho maxato però va bene angel devil raro 3 frammenti di wild berry cherry e no ok pensavo si può fare epico raro raro epico latte 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 mazzata over leveled ma va bene latte c'è sempre latte c'è sempre allora ultima multi in questo banner raro va bene possiamo andare avanti va bene ragazzi io direi che abbiamo sculato un sacco già non lo volevo nemmeno buildare siamo arrivati addirittura al livello in cui non solo lo posso buildare ma tra le varie cose siamo anche di fronte a una situazione in cui ho portato c2 quindi tanta roba sono contenta così poi adesso abbiamo da pullare nel banner delle skin perché comunque l'altra volta di quelle nuove non ho trovato niente quindi c'è un sacco di skin nuove vanno trovate ok prima multi nel banner delle skin ok dovrebbe essere una multi con nemmeno rari forse una multi shaftissima no c'è un raro ok uno di numero allora i comuni li ho tutti quindi vado avanti veloce i rari alcuni mi mancano ma non questo ok seconda multi di nuovo sembrerebbe super 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 comune ha qua addirittura 5 comuni allora questi sono proprio frammenti easy perché li ho tutti le comuni quella di questa di erba azzurra è carinissima ok terza multi qui almeno un raro c'è per forza vediamoci sia anche un epico no rari però ce n'è più di uno esatto ecco noi due vediamo raro numero uno oh bene 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 questa mi mancava il raro numero due ce l'avevo già ma bene un raro che mi mancava e sono già contenta quando trovo qualcosa mi manca nelle skin sono già contenta anche perché appunto le skin le indossi e basta non è che potenzi personaggi eccetera quindi una copia va benissimo poi multi numero 4 e poi abbiamo la ultima ok dovrebbe essere un'altra scam questa di pancake tra l'altro è adorabile veramente vediamo epico pensavo fosse scam ma c'è un epico ok c'è un epico poi ora vediamo probabilmente ce l'ho già perché comunque gli epici un po' ce li ho però mai dire mai ok wow un sacco di rari ok ma vediamo se c'è un raro che mi manca ok quella trovata adesso oh oh che bello e questa ce l'avevo già quella di siferi penso molti mi vorrete uccidere per questo però ce l'avevo già io poi ultima molti nel banner delle skin scam probabilmente molto scam rare ok vediamo rara ok ce l'avevo già andiamo qua 2.000 vai 26 dai almeno 2 almeno 2 di quelli super rare le vorrei vediamo e vorrei un po' di caramelle per potenziare i biscotti più di tutto se me le possono dare grazie ecco queste tante anche del grado più rare per favore allora adesso comunque faccio vedere oh brava claudina finalmente ok potenziamo la gilda all'infinito ok eccone uno va bene i compass sono utili questi no caramelle invece che questi 2 caramelle no vabbè no vabbè ancora no vabbè ragazzi io non ci credo io non ci credo ragazzi ancora ancora crimpuff non ci credo